Quanta gente ho incontrato io, quante storie e compagnie, ora voglio più una storia importante, perché quello che sei tu, forse sei tu. Firmati un istante, parla chiaro, come non l'hai fatto mai, di più pochi sei lei. Non riesco a liberarmi, questa vita mi disturba sarai, come ti vorrei, quando ti vorrei.